1937. E questo è il numero di giorni trascorsi dall'ultima volta in cui Roberto Barbagallo ha varcato la soglia del comune 10 Reale nei panni di sindaco. Era il 22 febbraio 2018 e Barbagallo, al suo terzo anno di mandato, non sapeva che l'indomani sarebbe stato arrestato per il coinvolgimento nell'inchiesta Sibilla, un'indagine da cui è nato un processo che per il momento lo vede condannato in primo grado per tentata induzione in debita a promettere utilità. Questo pomeriggio Barbagallo tornerà a indossare la fascia di primo cittadino. La cerimonia, prevista per le 18, è attesa non solo dai suoi sostenitori ma anche da quanti si chiedono quale sarà il futuro dell'amministrazione. A tenere banco è infatti l'ipotesi di un'immediata sospensione per via di quanto previsto dalla legge Severino per i sindaci condannati per reati contro la pubblica amministrazione. Il provvedimento comporterebbe un congelamento della carica, una storia già vista per ultimo a Catania con la sindacatura pogliese, che prevedrebbe il passaggio di consegna al vice sindaco. Nel caso 10 Reale, però, la giunta comunale ancora non esiste ed è questo il motivo che porterà Barbagallo a nominare gli assessori subito dopo il proprio insediamento. I nomi di chi andrà a comporre la giunta sono già noti. Si tratta di Valentina Pulvirenti, Francesca Messina, Laura Toscano, Giuseppe Vasta, Salvo Ricciardello, Rosario Raneri ed Enzo Di Mauro. Da ufficializzare, invece, sono ancora le deleghe e in particolar modo quella di vice sindaco, ovvero di chi in caso di sospensione prenderebbe in mano l'attività amministrativa perlomeno fino a settembre, quando è previsto l'inizio del processo d'appello per Barbagallo. Un giudizio di secondo grado su cui il delfino del deputato regionale di Forza Italia, Nicola D'Agostino, punta alle proprie fisce confidando in una soluzione che lo riporterebbe alla guida della giunta. In attesa di conoscere se il provvedimento della prefettura arriverà o se, come auspicato dall'enturace di Barbagallo, la legge Severino non verrà applicata in quanto la condanna riguarda un reato tentato e non consumato, una cosa è certa. La seconda esperienza da sindaco inizia inaspettatamente in salita. In piena campagna elettorale, Barbagallo è stato infatti raggiunto da un nuovo avviso di garanzia in un'inchiesta che lo vede accusato, nei panni di ingegnere, dei reati di falso e rivelazione di segreti d'ufficio. A ciò si è aggiunta la polemica sui contatti con alcuni esponenti del clan Santa Paolo Ercolano, emersi nel corso delle indagini, fatti che seppure non hanno portato a formali contestazioni da parte dei magistrati, hanno inevitabilmente gettato ombre sulle frequentazioni del sindaco.